Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi vediamo come creare una pagina cattura contatti con Canva con la sua funzione per creare siti web. Abbiamo visto il video di ieri, se te lo sei perso vattela a vedere. Te lo metto qui nelle schede. Come creare un sito internet, come guadagnare creando pagine di vendita online ma anche come poter fare dei siti. È un video pazzesco. Vattela a vedere un corso completo su come monetizzare con Canva attraverso i siti internet. Ti insegno sia come fare i siti internet con Canva ma anche come vendere in dropshipping un servizio preso su Fiverr e creare una pagina di vendita. Come collegare il pulsante Paypal. È un video assurdo. Vattela a vedere. Poi se vuoi approfondire il dropshipping di servizi vai su lezione.michelemaralino.com Trovi il link in descrizione dove ti spiego questo business. Come puoi guadagnare partendo completamente da zero non dovendo fare nulla. Zero investimento. Zero competenze. Devi semplicemente rivendere servizi di altri. Il cosiddetto drop service fatto su Fiverr. Io lo faccio. Ne ho parlato in una lezione specifica di 30 minuti che trovi su lezione.michelemaralino.com. Mi raccomando. Qui vediamo oggi invece come creare una pagina invece di vendere qualcosa dove regaliamo qualcosa. E lo facciamo con Canva. E questo è il metodo più semplice per farlo senza dover acquistare un autoresponditore senza dover acquistare ClickFunnels. Nessun tool magari che è più costoso. Io per esempio ho ClickFunnels e spendo 97 dollari al mese. Ovviamente quando divento un professionista sono soldi benedetti perché è un tool impazzesco. ClickFunnels più un autoresponditore. Io uso GetResponse e lavoro online. Praticamente ora GetResponse sì anche quello sta sul novantina d'euro, 80 euro. Poi dipende dalla dimensione della lista che avete. Con meno di 200 euro. Questi sono i costi di un business online. Pazzesco. Però per iniziare magari 97 dollari al mese possono essere tanti. Io ho iniziato così con i moduli di Google. Pazzesco. Che vi crea un praticamente file Excel con tutte le mail e poi manualmente li dovete contattare. Però già è un modo per catturare i contatti. Video incredibile anche questo. Iscriviti al canale, commenta, supportami. Stiamo vedendo in questi giorni Canva che è una miniera d'oro. Poi farò anche un corso completo su come guadagnare con Canva che vi farà esplodere il cervello. Iscrivetevi al canale per non perderlo. Attivate la campanella e supportatemi con un bel commento. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti. Scrivete qualcosa. Commentate perché mi date un boost. Allora, ovviamente questo è un discorso molto utile per chi ha una community. Chi ha un canale YouTube o una pagina Instagram e quindi ha un pubblico e quindi poi vuole contattare quel pubblico magari vendendogli qualcosa ha bisogno di suoi contatti. Io lavoro, se volete, anche vi consiglio il mio corso gratuito se ancora non l'avete visto, dove vi spiego come con un canale YouTube Michele Maraglino Musica. Chi mi segue lo sa, io vengo dalla Musica, nel senso che lavoro online, ho iniziato a lavorare online alla fine del 2016 mettendo le mie competenze online con un canale YouTube. All'epoca si chiamava Michele Maraglino, poi l'ho ricambiato per non confonderlo con questo, con Michele Maraglino Musica. E lì vendo i miei prodotti, i miei servizi e se andate a vedere quel canale YouTube, ovviamente, nella descrizione dei video ci sono un sacco di link dove vendo in dropshipping, per esempio vendo servizi, vendo videocorsi, ma anche regalo cose gratis in cambio dei contatti perché poi con l'autoresponditore mando tutta una serie di mail. Però sono partito così, con i moduli di Google, ed è una roba interessante per avere i contatti perché in questo settore, sappiate, io vi dico sempre, per guadagnare online in maniera seria, avere una carriera online seria, bisogna vendere qualcosa a qualcuno. Basta cercare il trucchetto, il metodo, bisogna vendere qualcosa a qualcuno e quindi una lista contatti è la cosa più importante perché si dice appunto in questo settore, i soldi sono nella lista. Quindi crea i tuoi contenuti e prendi i contatti dei tuoi clienti e vendili poi tramite mail oppure puoi fare, sì, tramite mail, puoi prendere il cellulare, la mail. Ovviamente guardate il mio corso gratuito dove ti faccio vedere come io ho messo in piedi un business con le mie competenze online e lo trovi su corsogratis.michelemaraglino.com Ti faccio vedere come guadagno ogni mese migliaia di euro con un canale YouTube, un blog michelemaraglino.com e tutto alla luce del sole, è incredibile, è una cosa davvero rara qui su YouTube, soprattutto nei canali che parlano di guadagnare online. Non si capisce in queste persone, credo che il loro business sia parlare di guadagnare online, che per carità, lo dico anch'io, è una nicchia profittevole perché YouTube paga bene i video di guadagno online o di investimenti, però poi se volete veramente fare questo nella vita dovreste prendere le informazioni da chi guadagna veramente. Quindi andatevi a vedere il corso, andate su corsogratis.michelemaraglino.com dove vi racconto la mia storia e come potete partire voi. Ora, in questo video, dopo che ti sei iscritto, spero proprio perché contenuti pazzeschi, anche il video di ieri era pazzesco, ho fatto da recuperare se non l'hai visto. Andiamo su Canva, scriviamo, crea un design, scriviamo un website, vogliamo creare un sito, ok? Clicchiamo website e abbiamo il nostro modello. Su Canva ieri abbiamo visto che possiamo addirittura, cioè ci dà anche il link, cioè questo è un metodo per chi parte completamente da zero. Certo, non ti serve a niente una pagina cattura contatti se non hai una community, se non stai facendo contenuti sui social, se non hai un argomento su cui sei padrone e su cui parli, di cui parli e quindi avvicini un pubblico. E quindi diciamo che questo video è destinato a tutte le persone che magari sono in questa situazione, ma non sanno come creare una pagina, non hanno i soldi, non sanno come catturare i contatti. Questo è un metodo completamente da zero pazzesco. Quindi andate su Canva, che è gratuito, però vi consiglio di fare la versione Pro, 12 euro al mese, è l'unica spesa che avrete, che è già più sostenibile, ma credo che con anche la versione gratuita potete fare, ci sono dei template più che decenti. Quindi anche da zero, sotto zero, potete partire, non avete scuse. Prendiamo un design qualsiasi, magari vogliamo regalare una guida, quindi io metto PDF. Prendiamo questo, facciamo finta che come guadagnare online, scarica la guida completa gratuita. Clicca, lascia i tuoi dati e ricevi gratis la guida di oltre 100 pagine. E mettiamo questo, qua cancelliamo, 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 qua scriviamo, scarica adesso, scarica adesso. E questo mi sembra un bel pulsante, lo allunghiamo. Magari sì. Boldiamo, perfetto, qua scriviamo, non possiamo scrivere. Vabbè, qua lo lasciamo così, qua lo cancelliamo, elimina, come guadagnare online, scarica la guida completa, gratuita. Magari lo boldiamo. Ora sto facendo al volo, ragazzi, quello che io voglio far vedere è che noi possiamo poi a questa pagina, lascia i tuoi dati, bellissimo, il pulsante scarica adesso, così magari qui potremmo anche ingrandire il testo. Ok, spero proprio di sì, eccolo qua, scarica adesso. Anzi no, scarica gratis, gratis. Ok? Qua mettete la... Addirittura potreste su element guida magari trovare oppure grafica, magari mettiamo questa roba qua. Ecco. Ora non è invitante però. Per l'esempio, ecco, scarica gratis. Quindi lascia i tuoi dati, magari lo ingrandiamo. Lascia i tuoi dati e ricevi gratis la guida di oltre 100 pagine. Ora in qualsiasi nicchia, voi, in qualsiasi argomento voi volete parlare, avete, se faccio preview, ecco il nostro sito come si presenta con tutte le belle animazioni. Clicco scarica gratis. E il gioco è fatto. Ora vado su Google, scrivo moduli Google. Google Form, giusto, prendete il primo link, poi vai su vai ai moduli. Ovviamente dovete avere un account Google Gmail, ma ce lo avrete. Dopodiché, cliccate qui, crea un nuovo modulo. Qui scriviamo scarica, sì, 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 scarica, scusate, eh, scarica la guida definitiva per guadagnare online. Ok, descrizione e modulo, lascia i tuoi dati e ricevi gratuitamente la guida via mail. Punto. E scaricato io, mettiamo un bel corsico e via. Domanda nome, ci servirà nome, eh, nome. Poi, e facciamo risposta breve. Poi facciamo un altro qui più, mail, bellissimo. La risposta breve. Numero di cellulare. Ok, questo mail, nome, le dobbiamo tutte rendere obbligatorie, perché se no la gente non ci lascia i dati, quindi selezioniamo obbligatorio. Anche la mail è obbligatoria, ce la devono lasciare. Numero di cellulare, obbligatorio. Ora, molto semplice. Ok? Allora, per farlo più carino, magari mettiamo un'immagine. Clicchiamo qui la tavolozza, scegli immagine, lavoro e scuola. Potremmo anche caricarla noi, ma io ne prendo una velocemente da qui. Questa, non so perché, mi piace. Faccio inserisci. E ce l'abbiamo qua. Vediamo l'anteprima. Ecco qua il nostro modulo. Scarica la guida definitiva per guadagnare online. La mail, nome, mail, numero di cellulare. Invia. Ok? Ora noi abbiamo bisogno di un bel link. Clicco su invia e qui mi dà il link. Lo abbrevio e lo copio. Vado sul mio sito, vado qui, tasto destro, link, e, indovinate un po', inserisco il link. Fatto! Qua, per pubblicarlo, come abbiamo visto nel video di ieri, e abbiamo già il dominio e quant'altro, è pazzesco. Qua possiamo modificare. Ora no, come guadagnare online. Possiamo pubblicare il, ah, il, il sito, abbiamo il link. Se facciamo preview, guardate, clicco scarica gratis e finisco qui. Tutte le persone che andranno, adesso magari voglio compilare, voglio scrivere Michele. Michele, Michele, Chiocciola, Michele, punto com, e il mio numero di cellulare. Faccio invia. Ok. Una volta che qualcuno compila, se io vado su Vai Moduli, qui, poi, noi possiamo controllare il nostro modulo. Ok? Vado qui. Vedete che mi è uscita una risposta. Vedo la risposta, però qui è un po' confuso in area. Clicco qui, collega a fogli, crea un nuovo foglio di lavoro, faccio Crea, e ho il mio bellissimo file Excel, con tutti i dati, cioè c'è già la tabella. E poi successivamente mandare delle mail. Però, vedete qui, intanto si costruisce tutta la propria lista contatti. Questo è un metodo pratico per partire da zero a raccogliere i contatti. Ok? Con Canva, che ti dà il sito gratuito, ti dà il dominio, ti dà tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se questo video vi ha ispirato, e commentate, supportatemi, fatemi sapere se state iniziando a sbanettare con Canva e creando i vostri business online. Vi leggo tutti nei commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!